Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo sempre a Cosenza, sempre al convegno Università Arcobaleno in compagnia questa volta di Paolo Valerio, relatore oggi qui, ma comunque molto conosciuto perché Paolo gira tantissimo l'Italia e devo dire che se voi cercate su YouTube o comunque se cercate su Facebook le sue ricerche ne troverete veramente di tantissime. Io voglio chiedergli del doppio libretto perché l'ho segnato tra le cose da chiedere alla fine insomma del interessantissimo convegno. Allora, forse più che di doppio libretto oggi dobbiamo parlare di Carrera Alias, nel momento in cui ormai quasi tutte le università si sono attrezzate con libretti elettronici, quindi la Carrera Alias è un qualcosa che consente agli studenti transgender, quindi studenti nati con un corpo maschile che ma sentono appartenenti al genere femminile o studentesse nati con un corpo femminile e quindi diventano studenti perché appunto si identificano con il genere maschile, di poter essere riconosciuti come tale dagli Atenei. Molti Atenei hanno in qualche modo proposto tutto questo, Napoli tra gli altri, la Federico II. A Napoli quello che è interessante che è accaduto un'altra cosa che con il Cug abbiamo chiesto che questa opportunità fosse anche offerta al personale docente e non docente dell'Ateneo e il rettore l'ha concesso, quindi come dire anche il personale docente e non docente transgender ha l'opportunità di vedere riconosciuto il genere a cui senti appartenere se non ancora è finito e porta davanti tutto l'iter giuridico, amministrativo del cambio anagrafico. Perché è importante? Prima cosa perché un ragazzo o una ragazza di 18 anni non hanno spesso l'opportunità di avere già terminato l'iter che previstò la legge per poter cambiare il genere anche sulla carta di identità e quindi hanno difficoltà, essendo un ragazzo transgender M2F, quindi maschio, vicente e femmina, di poter in qualche modo non essere preso in giro o avere imbarazzo quel professore. E poi ribadire che un Ateneo offre tutto questo significa ribadire che il famoso pregiudizio, soprattutto per le persone transgender M2F, che essere una persona trans significa essere prostituta, viene fatto fuori questo pregiudizio perché a questo punto avremo scienziati, avremo avvocati, psicologi, medici, pensando ai nostri sette studenti transgender iscritti all'Ateneo Federico II. E questo è molto importante proprio per la pubblica opinione perché molto spesso si parla, come una volta si parlava dello squalido mondo, il vizio dell'omosessualità, i balletti verdi, tutte queste cose. L'ambiente omosessualità. Oggi tutto questo per fortuna non esiste più, però purtroppo c'è ancora un alone di sospetto e pregiudizio rispetto alle persone transgender. I genitori talvolta ci dicono, professore, gay sì, trans no. Ecco, sapere che un ragazzo trans, quindi una persona F2M o una ragazza trans, una persona M2F, possa frequentare l'università, dà anche ai genitori un senso di sollievo e soprattutto dà all'Ateneo l'immagine di un Ateneo molto inclusivo. Io ho incontrato il vostro lettore in uno degli ultimi convegni e lui mi sembrava anche disponibile, quindi sarebbe importante parlarne con il Cug della vostra università e penso che è fatto da persone molto aperte e anche quindi l'università dove siamo qui ora potrà offrire a tutti gli studenti transgender questa opportunità, che mi sembra molto molto importante. Professore, un'ultima domanda, poi non le rubo altro tempo, abbiamo visto un video molto interessante. Questo video apriva l'argomento delle mutilazioni genitali in ambito infantile, perché fondamentalmente la questione dell'interessualità e comunque delle mutilazioni esiste. Allora, quindi ora stiamo aprendo un altro capitolo, per non far confondere anche i spettatori. Non parliamo più di persone transgender, cioè di persone che, nate con un corpo biologico maschio, senti appartenere al genere femminile, senza che questo significa sono malattie di mente. Parliamo invece di un'altra categoria di persone, con i bambini e bambine che nascono, per fatti genetici, con genitali atipici. Una volta si parlava di pseudermafroditismo, odermafroditismo, insomma, no? Cioè con i bambini per i quali, o perché sono femminucce con clitori dipertrofici, o maschietti con micropeni e testi curitenuti, si ha difficoltà sia ad assegnare il genere alla nascita, ma anche e soprattutto a tollerare questa atipia rispetto a quello a noi siamo abituati. Ecco, spesso i genitori o i medici, tutto in passato, chiedevano che fossero fatti interventi di chirurgia estetica, purtroppo, perché non è altro che questo. Oggi le persone intersessuali chiedono che sia lasciato loro il diritto di potessi autodeterminare e di scegliere. Sapendo, noi lavoriamo in quest'ambito e sappiamo quanto possa essere doloroso per una famiglia un fatto del genere, che va però affrontata, affrontata bene, senza nessun pregiudizio e nessuna paura, per evitare che questo bambino o bambina possa poi soffrire in futuro. Ricordo una ragazza di 19 anni, venuta da noi con questo dramma che aveva scoperto la diagnosi, perché fu fatta un intervento quando era molto 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 piccola, nessuno ne ha detto niente e non poteva avere il primo rapporto sessuale, perché in realtà la neovaggina era collabita, per cui non aveva la possibilità di essere penetrata. E per lei fu un dramma scoprirlo dopo tanto tempo. Ora c'è una storia che voglio raccontarvi, perché è importante, che ha cambiato anche l'atteggiamento della scienza. Il caso di John John. John era un bambino che doveva essere sottoposto a circoncisione, per cui andò dal chirurgo e purtroppo quel giorno il chirurgo ebbe un grave incidente, cioè il bisturi bruciò il pene del bambino. I genitori sperati non avevano che fare. All'epoca c'era questo John Hopkins, al John Hopkins Institute c'era John Money, uno scienziato che proponeva appunto interventi nel caso di bambini intersessuali di cambiamento chirurgico del sesso per adeguarlo e si ipotizzò di trasformare John in femminuccia, quindi tolto i testicoli e fu creata una neovaggina. Crebbe sempre con qualche difficoltà, però quando all'adolescenza scoprì quello che a lei era accaduto, decise di voler ritornare al genere maschile, che avevano assenato a genere femminile. Si sposò, adottò anche dei figli, però a 30 anni si è suicidato perché non sopportò tutta la sofferenza. Ecco da allora si comincia a avere molta più attenzione ai diritti delle persone intersessuali, sapendo che parliamo da 1 a 1.500, 1 a 4.500 nuovi nati, parliamo di una popolazione molto numerosa su cui c'è sempre il silenzio, la vergogna, la paura si venga a sapere, si venga a scoprire, facendo vivere questi bambini se sono operati in condizioni di vita davvero molto molto tragiche. Un ultimo esempio perché fa capire anche bene alle persone, venne un giorno una bambina di 10-11 anni, la mamma facendo la doccia scoprì che aveva un clitorio di ipertrofico, sembrava un micropene e la porta dei medici, prima si pensò che potesse essere un caso di un tumore, poi si pensò a un caso di intersessualità, poi si scoprì invece che era una bambina che per caso, come alcuni maschietti possono avere peni molto piccoli, così alcune femminucce possono avere un clitorio di ipertrofico, senza che questo corrisponda a malattia. I chirurghi hanno deciso di operarla, pensando che quando sarebbe sposata avrebbe avuto avere difficoltà. Ebbene abbiamo lavorato molto con i chirurghi, con i pediatri, per aiutarli a comprendere che quella bambina poteva essere lasciata un po' in pace, vorrebbe dire, e vivere serenamente la sua vita. E soltanto quando ciascuno di noi cominciò a pensare alla propria vita sessuale, alle proprie fantasie, ecco lì si riuscì a trovare finalmente la soluzione più giusta, cioè di aspettare che la bambina crescesse e potesse poi decidere autonomamente. Io ringrazio il professor Valerio, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cosenza. Grazie.